A seguito delle decisioni dello scorso anno dal governo di prelevare dei soldi dalle province, consistenti risorse, è chiaro che il nostro bilancio deve trovare modo di ridursi nell'offrire servizi purtroppo ai cittadini. Si è parlato molto che se tra queste riduzioni potessero essere anche i servizi bibliotecari, noi per quest'anno riusciamo a garantire il funzionamento come è stato l'anno scorso. La cosa positiva è che con i sistemi bibliotecari, che sono quelli che a loro volta gestiscono le singole biblioteche, c'è in corso una buona volontà di cooperazione di compartecipare ai costi proprio per il bene dei cittadini, in modo che se la provincia, per forze esterne a noi, parlando del governo centrale, ci obbliga a ridurre i servizi verso la gente, non vogliamo che però i bergamaschi perdano questa lunga tradizione di servizi interbibliotecari. Chiediamo la collaborazione dei sistemi, ce la stanno dando, oggi in giunta abbiamo deciso insieme ai sistemi di istituire un tavolo di lavoro, adesso i singoli sistemi discuteranno le loro giunte, un tavolo di lavoro in cui studiamo nuovi metodi per risparmiare, senza penalizzare il servizio e di suddividere un po' i costi. Non può più essere solo sulle spalle della provincia, ripeto, quando lo Stato ci toglie le nostre risorse che i bergamaschi versano per la provincia di Bergamo, sappiate che buona parte di questi soldi purtroppo se ne va a Roma e a noi resta così da mantenere quanto negli anni è stato realizzato e i servizi interbibliotecari sono così importanti che stiamo discutendo proprio come salvarli.